Vicenza. Arrivano entro la prossima settimana i rinforzi promessi alla questura di Vicenza. Dei 15 agenti promessi i primi 10 dovrebbero entrare in servizio già alla volta di martedì-mercoledì della prossima settimana, mentre i restanti 5 in autunno. L'annuncio dei nuovi arrivi era stato dato dallo stesso questore Giuseppe Petronzi a margine della festa della Polizia. I nuovi arrivi in forza all'organico potrebbero essere impiegati già a fine mese nel servizio di controllo in bicicletta di Campomarzo avviato a giugno dell'anno scorso. Ai, ai, ai.